ciao a tutti oggi vi faccio vedere degli oggetti che ci sono appena arrivati dalla casa produttrice si tratta di lettere e numeri per il pirografo a penna ecco qui vedete come sono fatti sono in ottone c'è tutto l'alfabeto più alcuni simboli oppure i numeri con anche il simbolo dell'euro la percentuale possono essere utili quando si deve stampare su legno o su cuoio si montano a vite semplicemente quasi a vita e si usano come se fosse uno stampino bisogna posizionare il pirografo perfettamente verticalmente al piano non ne abbiamo ancora provati perché sono proprio appena arrivati ecco vedete come si monta vite molto semplice se vi interessano li trovate sul nostro sito elettronicadidattica.com grazie a tutti vi aspetto per il nostro prossimo video ciao ciao ciao